PAPA 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 Ben tornati ragazzi sul canale di Stormplayer Oggi a cosa giochiamo di bello, a cosa giochiamo di bello fra i giochi del passato Ritorniamo su Super Nintendo, su SNES Oggi giochiamo a Teeny Toons Che non ricordo bene il nome, è molto più lungo però Teeny Toons ragazzi, i Looney Toons Chi se li ricorda ragazzi, chi non se li ricorda Il cartone animato dei Looney Toons Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Teeny Toon Adventures Buster Bust Lose Non so se l'ho detto bene, comunque è quello il gioco ragazzi, è quello Un videogioco sviluppato dalla Konami nel 1991 Sull'omonima serie di cartoni animati che conosciamo tutti Il gioco segue le avventure di Buster Bunny Che cerca di salvare la sua ragazza, la sua compagna Babs Bunny dai nemici Con una grafica colorata e una meccanica di gioco molto divertente e coinvolgente Il gioco è diventato famoso fra tutti i fan dell'omonima serie dei cartoni I giocatori devono affrontare vari livelli e sconfiggere tanti boss Per andare avanti e liberare la nostra Babs Bunny E quindi il videogioco è diventato uno dei più amati per la Super Nintendo Per la nostra SNES che tutti conosciamo Ma non perdiamo altro tempo ragazzi Lo proviamo insieme Perché siamo curiosi L'ho spulciato un pochino Ma niente di che Come al solito Voglio iniziare sempre un gioco senza averlo prima provato Lo sapete bene Quindi mi raccomando like e commento Ragazzi se vi piace la serie dedicata ai videogiochi del passato Perché ce ne stiamo facendo tanti di questi video ultimamente Quindi mi raccomando E poi ricordate sempre la mia affiliazione su Amazon Date un'occhiata ai link in descrizione Vi porteranno sul sito E se acquisterete qualcosa Amazon mi regalerà un piccolo contributo per sostenere il mio canale Quindi mi raccomando Oggi c'è una bella luce in faccia Finalmente Oh che bella luce Oh sono contento Iniziamo Iniziamo con Buster Bunny in giro Per le sue avventure Allora io mi ricordo solo come si corre Ok così si danno i calci Pugni così 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 si salta Bene iniziamo Oh Attenzione eh Questo è meno a fu Mena a calci Perché si ferma quando corre? Voglio correre? No Mi ha colpito Allora tu vai a casa Perché mi hai colpito Attenzione Staviamo le scale Non si riepiù Dov'è? Dov'è? Non ho capito perché si blocca Raga Perché si blocca quando corre? Non dovrebbe correre all'infinito Oh cacchio Sarà caduto? Allora Qua ci vuole un bel salto Un salto triplo Salto E questa me la ricordo perché L'ho fatto prima Dai No Che culo Mamma mia che è oh No Spiri Gonzales No che schifo Che zione Dai dai Sali Perché non sale oh Ma perché fa così? Mazziamo questi prima Prima che ci fanno il kill Ok morti tutti Ora dovrebbe salire Perché certe volte sali E certe volte no Ho mancato una stella Fa niente Fa niente Attenzione Cos'è qui? Allora Saliamo su Cos'è? Un mobile gigante? Aspetta E calmo Perché non corre all'infinito? Morta No C'è morto Non è giusto ragazzi Non è giusto Dai Non è giusto Non è giusto Non è giusto Non è giusto Però Molto bello Però l'unica cosa che non ho capito Che non sto capendo Perché non corre all'infinito Cioè quando dice lui Corre all'infinito Sono i miei pulsanti Che non funzionano più Sono i miei pulsanti? Ho il gioco che è un po' È un po' strano Perché non sale all'infinito? Perché sale ora? Ma quando cado mi faccio male? Allora qua devo saltare qui Attenzione Allora Sì così dovevo fare Così libero la strada E passo Attenzione Salto all'infinito Vedete che sta Ma perché non sale di nuovo? Ok qua c'è un altro pulsante Bene Allora Ok quindi Io dovrei salire qua Perché c'è quello là Che dà fastidio Così posso riuscire a saltare Dall'altra parte Attenzione Oh Attenzione Eh Questo L'ho già fatto prima Cioè L'ho già fatto L'ho già visto un po' Oh Cacchio è quello Ho chiuso qua Attenzione allo salto Scappo 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 Perché non stiamo alla porta? Ragazzi Devo colpire questo Forse per rubargli la chiave Oh Dimmi che hai preso la chiave Niente Non l'ha preso la chiave Come si fa qui? Che No ragazzi Non morire ti prego No 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 Perché ho da finire nella spazzatura? Non mi direi che Ok C'è un'altra strada Attenzione Ora Ti farò dare nemmeno un coppia Oh cacchio è forte questo Vieni Non lo vedo arrivare però Hai Guardalo Non si apre la porta ragazzi Non mi direi che inizio da capo Che ve lo gio- Ragazzi I giochi Questi giochi Ma perché non corri sempre? Niente Quando dice lui Corre Si stanca Che sta a fare? Butch Attenzione Attenzione All'infinito No 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 cadi Non ti far male Corri Guardate Allora Certe volte salta sempre Ragazzi Certe volte no Guarda qua Guarda qua Guarda guarda Non so se è il mio Pad che impazzito Attenzione 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 Ma mi faccio mal da solo? Quando ho cato mi faccio male? Volevo capire ciò? Guarda questo fetente Guarda qua Quel pezzo lo voglio fare assolutamente Non ho capito perché quello di prima Quello di prima Ci ha fatto morire No di nuovo Stesso sbaglio Stesso errore Niente Lo sa lui Quando deve salire Guarda Guarda Niente Qualcune volte sale Alcune volte no No Così mi faccio male Non mi sono fatto niente Ah ok Questi così Servono per la forza Che cacchio Ne sapevo Che volete da me Oh no Da qua Aspetta forse si cade Vediamo Eh si da qua Ci fa male Quindi questo Deve avere un po' di botte Ok Attenzione Questo ammazzato No non cadere Non cadere Ma sei un pirla Sei Stai calmo Stai calmo Stai calmo Ok Scendiamo qua Siamo arrivati da Da sto signore Qua Non ho capito Come si fa Ad andare avanti Forse lo dobbiamo ammazzare Vieni vieni Ti aspetto Vieni Eh mi ha colpito Ti colpisco io Vieni qua Vieni Vieni Attenzione La chiave Questa volta L'abbiamo presa Attenzione Scensore 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 Andiamo avanti Dobbiamo trovare La nostra cara Babs Babs Questi ci sono Mi ammazzo tutti Così Oh I granchi Guardali Oh 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 Ah va in culo Devo far male Attenzione Porcellino Mi sta dicendo qualcosa Non lo so È successo Qualcosa di terribile Eeeh Non lo so Non lo so Non lo so C'è un mosso In cucina C'è qualcuno In cucina Cos'è Si è bruciata La torta Cos'è Ma basta Niente Che roba Che roba qua Oh Attenzione Tasmania Dai Vai Tasmania No Quindi Che roba Cosa devo fare Ragazzi Cosa Cosa devo fare Tasmania Devo ammazzare Tasmania Uh Tasmania Per rompere le palle Tasmanio Ah ti devo ammazzare Così Uh Scappa Scappa Dove sono Uh Tasmania Fanculo Tasmania Dove vai Qui devi Uh Senti giù Tasman 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 Tasmanio Ma cacchio va Sì Attenzione Ammazzato Come sono Ero mi No Ero mi rimasto incastrati Raga Ero mi rimasto incastrato C'ho quattro vite Ragazzi C'ho quattro vite Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Tasmania Oh Oh Pirlone Che non sei altro Attenzione Vieni qua Vieni 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 Sì Dove sei Ah ti faccio sempre così No mi colpisce lo stesso Stare un po' più attento No Tasman Ma quando gira è brutto Quando gira si deve fermare Si deve fermare Ok si deve fermare No Sei calmo Sei calmo No 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 Questo è bruttissimo La capra Si capisce No se muoio Buonanotte Dove è Ha colpito sto pirlo Ha colpito di nuovo Capra 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 Non da capo Ragazzi ho fatto tre livelli Mi fa iniziare da capo Dai Io non ci credo Ragazzi no Non è possibile Non è possibile Dai Non è possibile Questo è Come cacchio si chiama Teeny Toons Adventure Teeny Toons Adventure Buster Buster Lose Ecco perché ragazzi I giochi del passato Io l'ho detto sempre anche in altri video Sono molto difficili Proprio anche per questo motivo Ti sei fatto magari cinque minuti di game Anche più Per superare dei livelli Dopodiché Muori E inizi da capo No No Non è giusto così Non è giusto Non è proprio giusto Comunque ragazzi Fatemi sapere se vi è piaciuto Questo gioco Se lo avete giocato In passato Come al solito Mi raccomando Like E commento Per sostenere Il canale Per andare avanti In questi progetti Di tutti questi video giochi Del passato Che stiamo cercando Che sto riscovando Sto ritrovando E vi sto portando Qui sul canale Quindi anche Iscrizione alla fine Se vi piace il canale Stormplayer Ricordatevi anche Della mia affiliazione Su Amazon Quindi Andate qui Nei commenti In descrizione Nei link in descrizione E troverete qualche gadget Che vi potrebbe Interessare E se acquisterete qualcosa Cliccando Da uno dei miei link Amazon Mi regalerà Un piccolo contributo Per il mio canale Quindi mi raccomando Ragazzi Ci tengo molto Grazie a tutti Ci vediamo Nel prossimo video ragazzi Nella rubrica Dedicata ai videogiochi Del passato Mi raccomando Fati bravi Ma non troppo Ci vediamo Al prossimo video Let's go Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti